bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news di fortnite delle ultime 24 ore parleremo ancora di alcuni dettagli sul fort nightmares perché oramai ci siamo è manca poco più di dieci giorni alla festa di halloween ma molti meno in teoria a tutto l'evento del fort nightmares che come abbiamo già visto nei video precedenti dovrebbe essere qualcosa di davvero interessante sappiamo già che tornerà la nebbia oggi vi faccio vedere anche delle altre cose ma parliamo anche della nuova nintendo switch in arrivo con il bundle di tanti leaks e di tutte le novità prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è una teoria di cui vi avevo già parlato che sembra avere finalmente una conferma ovvero sia che nel fort nightmares dovrebbe arrivare una variante un meglio una versione della skin di kevin che è kevin o meglio cosa è kevin è il cubo quello che c'è in questo momento a foschi fumaioli avevamo già visto settimana scorsa un bellissimo concept che è stato stravotato dagli utenti su reddit dove si parlava proprio di dottor ken e mister vin quindi una skin che man mano si va avanti nella partita possa completamente trasformarsi abbiamo appunto nei file di gioco una stringa che confermerebbe l'arrivo solo di una skin appunto dedicata a kevin ma abbiamo anche un bellissimo concept che è stato creato davvero tanta tanta roba ora voi prendetelo ovviamente come un concept chissà se arriverà mai agli sviluppatori di ep games però è veramente un lavoro con i fiocchi quindi complimenti a chi l'ha creato ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono invece degli aggiornamenti sulla flare gun ve la ricorderete senz'altro abbiamo visto la prima volta la flare gun nel trailer della stagione numero 8 quindi pensate quanto tempo fa ma è dovuto arrivare il capitolo 2 per poterla realmente vedere e provare in game per chi non se lo ricordasse la flare gun è una pistola che aveva sei colpi non ricaricabili quindi una volta finiti si buttava serviva per vedere i nemici intorno però faceva anche un danno abbastanza importante con addirittura la possibilità di bruciare le strutture beh ci sono stati degli aggiornamenti nelle ultime ore di questa arma e come potete leggere sotto è stata incrementato incrementato il tempo in cui si possono vedere i nemici di 15 secondi questo non avrebbe senso a meno che non abbiano in mente di riportarla in game quindi aspettiamoci di rivederla speriamo quanto presto perché era veramente un'arma molto molto interessante e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché notizie invece per quanto riguarda la patch 14.40 un po tutti la stiamo aspettando forti anche del fatto che ci hanno fatto capire che è già pronte in poche parole le build della 14.40 sono già terminate da una settimana è già stata spostata negli staging server quindi vuol dire che le hanno già provate nei server privati loro ovviamente ma ieri viene rilasciata una nuova build quindi arrivano la build 197 questo vuol dire che non è confermato il fatto che questa settimana avremmo un nuovo downtime dei server sono più propenso a pensare che sarà martedì prossimo sono obbligati comunque a farla prima del fortnite mers perché non abbiamo nulla in game che ci dia delle indicazioni su quello che abbiano intenzione di fare e quindi questa build delle ultime ore appunto ci fa pensare che ci potrebbe essere uno slittamento a settimana prossima e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla un secondo di shiulk voglio un attimo spezzare una fiocina per i bellissimi wallpaper che sono stati ricevuti in questa season davvero i disegni mi piacciono un sacco è un piacere vederli tra il caricamento della lobby per entrare in game in questo wallpaper c'è qualcosa di particolare sotto di me ragazzi l'avevamo già visto c'è questa variante del pesce secco che però è in versione femminile come una principessa tra l'altro non è solamente una skin disegnata in una schermata di caricamento ma abbiamo nei file di gioco ovviamente non pubblicamente un sacco di elementi che si fanno ricondurre a questa skin abbiamo il castello abbiamo la poltrone imbottita abbiamo la corona mi sembra che qualcosa sia possibile già utilizzarlo in creativa quindi qualcosa sta per arrivare anche riguardante questa skin ma in questo wallpaper c'è anche un altro dettaglio interessante che voglio zoomarvi ed è la skin sulla destra che molti dicono potrebbe essere una delle skin del fortnite mers 2020 effettivamente è un po no sense riguardo a quanto era disegnato ve lo faccio rivedere nel nel wallpaper originale sembra una specie di anfibio che come vedete non è assolutamente con buone intenzioni e perché no ci starebbe tutto nel vederlo come skin durante il periodo di halloween e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi anticipavo a inizio del video è disponibile da un po di ore una manciata di ore su amazon la possibilità di fare un pre order sul nuovo bundle di nintendo switch con fortnite è davvero molto bella questa console perché come vedete ha dei dettagli che richiamano tantissimo il battle royale di epic games il supporto per la console è serigrafato con la banana il pesce secco lo school trooper il tomato e tutte le skin più famose e la il controller come vedete ha questo bellissimo autobus della battaglia che va a rifinire la parte di destra la cosa che interessa a noi è che viene venduta con una skin che diventerà sicuramente molto molto rara la skin si chiama wildcat ve la voglio far vedere in questa immagine che è un pochettino più chiara con due varianti ovviamente verranno anche dati 2000 vbucks per l'acquisto e se non ricordo male è un set quindi c'è anche il deltaplano e il piccone pensateci se volete incrementare il vostro armadietto e volete avere qualcosa di raro beh questa è un'occasione davvero da non lasciarsi scappare e arriviamo in finale in chiusura ragazzi perché volevo rispondere a delle domande che mi fate spesso e volentieri sia in live che in privato se io ero partecipato alla coppa d'ar devil non ho ricevuto il deltaplano è normale questo deltaplano ragazzi che verrà consegnato gratuitamente a tutti i partecipanti della coppa d'ar devil dovrebbe essere regalato al termine dell'ultimo evento quindi se ne sono ancora tre che non sappiamo quando verranno fatte perché le annunciano diciamo senza dare un preavviso quindi magari con qualche giorno di anticipo sappiamo che ci sarà la coppa d'ar devil quindi non preoccupatevi se avete partecipato ma non avete vinto il deltaplano perché vi verrà dato alla fine della quarta insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi vedete alle 8 in live su twitch ciao